Sono 6.610 nuovi casi di positività al covid-19 registrati in tutta Italia nelle ultime 24 ore, di cui 444 solo in Sicilia, stando al bollettino rilasciato dal Ministero della Salute. In provincia di Caltanissetta, sempre nelle ultime 24 ore, ancora un calo dei nuovi casi di persone positive al SARS-CoV-2, con 17 pazienti positivi, tutti in isolamento domiciliare. 10 sono di Caltanissetta, 4 di Mussomeli, 2 di Santa Caterina Villarmosa e 1 di Mazzarino. Risultano però tre decessi e si tratta nel dettaglio di un paziente di Caltanissetta, di uno di Gela e di uno proveniente da fuori provincia. Sono invece 135 i pazienti guariti dal covid. 36 sono di Gela, 25 di Butera, 16 di San Cataldo, 13 di Caltanissetta, 8 di Delia, 8 di Sommatino, 5 di Niscemi, 5 di Riesi, 5 di Campofranco, 4 di Mussomeli, 3 di Mazzarino, 2 di Acquaviva Platani, 2 di Sutera, 1 di Santa Caterina Villarmosa, 1 di Serra di Falco e 1 di Villalba.